ancora ben trovati dalla redazione di tiranze smart in studio agnese fedeli traffico sostenuto in a1 dove troviamo rallentamenti per perte dati carico si tratta di un paraurti tra val di chiana e monte san savino verso nord sempre verso bologna quei attratti tra calenzano io uno variante in carri tutto opposta traffico intenso tra pian del voglio e aglio e tra più a uno variante badia in fipili un chilometro di coda per lavori tra empoli ed empoli est in direzione firenze ricordiamo che è in corso per quest'oggi uno sciopero dei dipendenti toremar sono numerose le cancellazioni dei traghetti da e verso l'elba possibile ripercussioni anche per il tpl muoversi in toscana infa un servizio in collaborazione con la regione toscana città meroputane firenze e comune firenze per ora è tutto buon viaggio a